A Teramo visita dell'assessore regionale con delega all'istruzione Pietro Quaresimale al convitto nazionale Melchiorre Delfico per la chiusura dell'anno scolastico 2022-2023. Da Teramo l'assessore ha voluto salutare simbolicamente tutti gli studenti abruzzesi, il corpo docente, il personale scolastico, ma anche i genitori che svolgono un ruolo estremamente importante nel mondo della scuola. Ci tenevo a portare saluti come ho fatto inizio anno per quest'ultimo giorno venendo qui al confitto appunto per cercare di capire come è stato l'anno. Io ritengo un anno come diceva lei proficuo perché finalmente un anno un po' più sereno rispetto a quelli che ci hanno proceduto in cui purtroppo a causa del covid abbiamo dovuto ricorrere alla dad con conseguenze sappiamo per i giudizievoli, per i ragazzi, non solo per quando attiene il percorso formativo ma anche per quando riguarda la socializzazione. Testimoniando il fatto che l'istruzione è sempre più fondamentale per accedere al lavoro, si cercano sempre profili più formati e sicuramente la scuola è di fondamentale importanza. E poi voglio fare un in bocca al lupo ai maturanti, appunto tutti i ragazzi che faranno gli esami di Stato il 21 giugno. Quaresimale ha anche sottolineato il lavoro che sta portando avanti la regione Abruzzo sul fronte dell'edilizia scolastica. Impegno confermato ieri dal ministro dell'istruzione Valditara, intervenuto all'Aquila. Il ministro ha confermato l'arrivo di ulteriori fondi per quanto attiene il PNR per l'edilizia scolastica. Questa notizia è importantissima perché abbiamo ancora tante scuole del nostro territorio, dell'Abruzzo, che devono essere adeguate sismicamente. E quindi ci ha portato una buona notizia e poi, come sapete, avete letto sui giornali, rispetto a delle osservazioni, anche un po' critiche, relativamente al nuovo dimensionamento scolastico, ha chiarito che questo nuovo strumento non impatta più di tanto sul nostro territorio, lasciando scia la sua nomia, così come io l'avevo richiesto. Quindi sicuramente notizie importanti per l'Abruzzo a livello scolastico. Ultimo giorno di scuola, ma già si pensa alla riapertura del 13 settembre? Sì, abbiamo fissato, come sapete, il nuovo calendario che prevede la riapertura del 13 settembre. La speranza è che sia un anno sereno come quello che oggi finisce.